Ciao a tutti da Stefano Di Carlo, volevo annunciare finalmente dopo tanti anni l'uscita del CD Progressive Generation Vol. 1, i più grandi successi della Synthetic raccolti in un unico CD. Lo troverete su Amazon e su Migliori Portali. Il CD uscirà sabato 13 maggio 2017. Synthetic Records, Progressive Generation. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS